Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, lui è il re della desatta Cancelletto 1 e oggi farà una recensione Farò la recensione di un film del 1983 Cujo, Cujo è un cane che contrae la rabbia a seguito del morso di un pistrello e si trasforma in una vorace macchina del terrore Saluto Samu Brina, Cita, Aliciotola, Mark Kolf, Ilaria, Ivan Drago, Mariuccia, Magellan, Festival, Ale, Gianluca, Red Boy, Henry, Ragazza di Henry I Suralli, Domenico, Leo, Tassoni, Peter, Tim, Michi, Robby, Toni, Cante, Michele Trigigliani, Favij, Picchiatore Giulio, Alessio, Uga, Bulluni, Il Triomedusa, The Rock, Orto e Telefine 122 Daniele, Nico Rota e il canale PNC Ma soprattutto te, te utente che ci segui, anzi che lo segui da tanto tempo A te un saluto particolare nel nostro cuore sai Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale Arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto